salve a tutti ragazzi qui è 76 e bentornati in un nuovo video oggi faremo un video di free fire domani uscirà un altro video di free fire e mercoledì inizieremo una nuova serie che vi piacerà spero vi dirò soltanto vi dirò soltanto mercoledì di che serie si parlerà prima di registrare dire di iniziare subito a giocare se si carica dai ok siamo partiti infatti poi giovedì ci sarà un altro episodio su granny visto che ho visto che vi era piaciuto ok però per domani credo di poter fare un video su free fire con un amico visto che ieri avevamo registrato ok siamo partiti con la prima partita se riusciremo faremo due partite se riusciremo è intanto sta venendo su un temporale da me ok andiamo un po potremmo andare acqua nell'ultimo e non buttarci subito ci potremmo buttare tipo direi adesso un attimo che sorvoliamo lì via andiamo in quale case di là che qui c'è lì ce n'era uno ma anzi no è lì però non credo che sia un problema adesso che ci spostiamo più a nord di là siamo in 48 in questa partita ok andiamo subito a cercare delle case che non ci serve andiamo in questa casa qua vediamo cosa ci sarà allora una pistola un paino niente di troppo che non è un problema non mi fa prendere le cose adesso mi è adatto proiettili Oh ma non trovo ancora un'arma buona Direi di andare di qua Andiamo un po' se troviamo delle case o qualcosa Non sono, non c'è ancora Mamma mia Giù, no 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 no, qui muoio 10 di vita Nel mare che ho un medikit Come puoi servire a buon'acqua? Andiamo un po' Sì qui ci sono qualcosa Vai Vediamo Eh Sì Non troviamo Armi più discenti Ci servirà Perché non ci sono molte case in questa zona All'azione Però posso mandare di qua Sì Vedo che là c'è una macchina Non so però se c'è qualcuno vicino a noi Non credo Vediamo un po' No ma non è niente Questa partita non è stata molto Questa partita non è molto fortunata Ok abbiamo un nano però Non è fortissima Spero che prima di sotto ci sia qualcosa Oh uno star Grazie mille Però Non c'è Ma questa ora Oh Vediamo un'altra Vediamo un'altra una zona siamo fuori andiamo dentro di qua dovremo avvicinarci vicino alla zona io ho proprio capito oppure un altro medikit una delle due cose spero che in stacato ci sia qualcosa altrimenti c'è un medikit eh vabbè mi hanno uscito subito direi di farne un'altra anzi ragazzi anzi invece wow bella un attimo che voglio vedere voglio vedere bella molto più bella ragazzi allora adesso io vorrei fare una cosa vorrei fare un attimo giocare un attimo a vediamo un po' a minecraft perchè questa sarà la serie che vi porterò allora dovrebbe essere nuovo survival crea merendo perchè è in creative scusate un attimo ho invertito i comandi scusate un attimo perchè non è facile survival creative ecco qua ok dovrebbe essere giusto perchè ha invertito i comandi scusate un attimo credo che ha invertito tutti i comandi ma scusa se io faccio così me lo dà creativa oh no è il contrario boh che diavolo ok è un minecraft un po' diverso perchè lo è però sempre meglio che niente ok prendiamoci subito un po' di legna per farci così mi piacerebbe che mi stiamo e mi stiamo dove farci la casa perchè questo qua è un buon questo è carino si qua magari chiudere qua e anche qua si dai perchè abbiamo bisogno di un'altra qui sotto l'albero anche se è piccolina non è vero iniziamo per non morire subito perchè se moriamo subito il livello il livello chiudiamo così il livello può restare perché sarà inizio così poi lo facciamo anche qua il livello qua dovremo chiudere e ci siamo subito e ci siamo subito preparati vediamo così e ci siamo un po' di luce durante la giornata perfetto allora direi di prenderci questo regno qua e usarlo per il massimo chiudiamo anzi direi di chiudere subito con la terra sa lo so che è un po' una casa da nube però capitemi anche voi è il primo giorno ma proprio cinque minuti giochiamo il tempo di far era un'introduzione della serie intanto sono bruttissimo vabbè quello sono dettagli zombie dov'essere una zombie che non è fatta ma qui dentro credo che sono al sicuro crafting mettiamo qua mettiamo qua facciamoci una spara e un picas no no ho sbagliato però ragazzi scrivetemi nei commenti se mercoledì volete che faccio minecraft oppure qualcos'altro spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto attivate la campanella delle notifiche per ricevere tutte le notizie e six chiude e